Un giorno un punk, Doc Mabuse, decise di andare allo stadio prendendo questa bandiera del Jolly Roger, la bandiera dei pirati, che aveva appesa la finestra di casa, la mette su un manico di scopa e entra allo stadio con questa bandiera. E da lì queste bandiere si moltiplicarono, divennero sempre di più, fino al giorno in cui anche la società del San Paoli decise di adottare questo simbolo come simbolo non ufficiale. Mi chiamo Marco Petroni, ho scritto questo libro San Paoli siamo noi per raccontare quasi dieci anni di esperienza all'interno dello stadio di questa tifoseria di calcio. Io sono capitato la prima volta ad Hamburgo nel 2004, facevo un viaggio, un interrail e capitai ad Hamburgo il giorno in cui giocava una partita al San Paoli. Comprai subito il biglietto e pomeriggio stesso sono andato a vedere la partita. Poi in realtà già prima di entrare allo stadio, aspettando il fischio d'inizio, insomma ho capito che c'era qualcosa di particolare attorno a questa tifoseria. Quindi attorno a me c'erano punk, c'erano skinhead, metallari, fricchettoni, persone normali, molti bambini e molte donne. Mi sono ritrovato sostanzialmente attorno a una comunità che fino a quel momento mi era capitato di frequentare le iniziative all'interno dei spazi sociali. Pahamboi, sapole, su Pahamboi, sapole. Sapole, ole ole, sapole ole ole. Questo spazio, lo spazio del porto, è stato da sempre uno spazio di lotta. Uno spazio di lotta da parte soprattutto di quegli operai portuali non specializzati che fin dalla fine dell'Ottocento hanno dato filo da torcere alla classe dominante della città, alle istituzioni cittadine. La storia è zeppa di episodi di rivolte, di insurrezioni, di resistenza all'ascesa del nazismo durante il periodo della Repubblica di Weimar. Il quartiere di San Paolo, oltre a questo aspetto qui, ha tanti altri aspetti, ha mille facce. All'interno del quartiere c'è il distretto a luci rosse, c'è tutta la zona del divertimento sessuale, da sempre, essendo un quartiere portuale. C'è anche un filo musicale che passa dapprima per le sale da ballo, poi per la musica jazz nel periodo degli anni 20 e degli anni 30, per poi passare nel periodo del dopoguerra al rock and roll. Infatti tra gli anni 50 e gli anni 60 sbarca all'interno di queste vie del quartiere di San Paolo e con esso arrivano le prime band inglesi, una delle quali è appunto quella dei Beatles, che nascono e crescono musicalmente proprio nel quartiere di San Paolo. Verso la fine degli anni 70 una serie di eventi, tra cui in principal modo la ristrutturazione all'interno del porto dal punto di vista capitalistico, cioè si arriva alla containerizzazione delle operazioni di scarico all'interno del porto che praticamente diminuisce in maniera clamorosa la mano d'opera all'interno del porto, il numero degli operai cala in maniera drastica, contemporaneamente inizia a diffondersi il virus dell'AIDS che praticamente distrugge tutto quello che era legato attorno al mercato del sesso e quindi il quartiere di San Paolo si ritrova in una fase di declino assoluto, si svuota, cala drasticamente anche la popolazione e si svuotano anche numerosi palazzi. All'interno di questo contesto interviene un'esperienza politica che è quella dell'autonomia tedesca, degli autonomen e all'interno di questo contesto iniziano delle occupazioni di interi palazzi, la più famosa delle quali ad Hamburgo è appunto quella dell'Affenstrasse, cioè vengono occupati una serie di palazzi proprio in riva al porto e da lì il quartiere è come se riprendesse vita, comincia a popolarsi di punk, di studenti, di esponenti della sinistra radicale, un po' attratti da tutta la Germania. Le occupazioni di l'Affenstrasse diventano quasi un simbolo internazionale della scena squat del nord Europa. Nel giro di pochissimo tempo, nel giro di qualche anno, questi militanti politici si accorgono che all'interno del quartiere, a poche decine di metri dalle occupazioni di l'Affenstrasse, c'era uno stadio frequentato da circa mille persone, per lo più vecchi portuali e Kutten, cioè la classica figura del tifoso tedesco che gira con delle giacchette jeans piene di toppe. Nel giro di qualche mese, lo stadio comincia a popolarsi di punk con l'aggressa colorata, di autonomi con le ferbe nere, che danno vita a una sorta di rivoluzione all'interno del calcio tedesco. In realtà c'era anche un altro motivo. Nello stesso periodo, cioè all'inizio degli anni Ottanta, all'interno delle curve di parecchi stati tedeschi iniziano ad entrare, diciamo così, gli esponenti dell'estrema destra neonazista. E quindi in molte curve incominciano gli ululati nei confronti dei giocatori di colore. Iniziano i saluti romani, iniziano le aggressioni ai punk, che in Germania hanno sempre portato avanti anche la passione per il calcio. Uno dei tratti principali e caratteristici della tifosera del San Paolo era l'ironia. E quindi vennero, ad esempio, modificati tutti i vecchi slogan, i vecchi canti del movimento operaio alla situazione del San Paolo. Il più famoso sicuramente è mai più guerra, mai più fascismo, mai più terza divisione. così facendo, anche grazie al minimo di successi sportivi, mi riferisco a una doppia promozione che portò nella stagione 87-88 del San Paolo in Bundesliga, lo stadio si riempì di circa 20.000 spettacoli a partita. Nel frattempo continuava una grossa battaglia politica per la difesa delle occultate, che Nel frattempo continuava una grossa battaglia politica per la difesa delle occultate, che erano le preoccupazioni della Fenstrasse. Quegli otto palazzi erano qualcosa di molto importante e di molto attraente per le speculazioni edilizie nei paraggi del porto. E quindi ci fu una durissima battaglia politica, con continue aggressioni sia da parte della polizia che da parte dei gruppi d'estrema destra, che ormai avevano dichiarato l'area della Fenstrasse come un mito da colpire a tutti i costi. E quindi per anni si è andati avanti, fino ai primi anni 90, con una sorta di guerra civile all'interno della città di Hamburgo, con scontri. La cosa non riuscì e la Fenstrasse, grazie all'impegno di migliaia di persone, riuscì a tenere queste occupazioni che poi nel corso degli anni vennero sostanzialmente legalizzate. E ancora oggi i vecchi palazzi della Fenstrasse colpiscono un po' l'occhio guardando il panorama del porto di Hamburgo, perché è l'unica costruzione vecchia rispetto ai grattacieli e a tutte le nuove costruzioni che ci sono. Il lavoro politico dei tifosi del San Paolo all'interno della struttura del club ha portato sostanzialmente all'allargamento della base democratica della società. La prima battaglia sostanzialmente fu quella condotta contro la costruzione di un mega impianto sportivo all'interno del quartiere di San Paolo, lo Sport Dom. È un progetto molto ambizioso, una mega costruzione sul modello dello Sky Dom di Toronto con investitori canadesi che grazie a una forte mobilitazione di tutto il quartiere fu fermata. E questo fu uno dei primi elementi che sancì una sorta di saldatura tra il quartiere di San Paolo e la tifoseria del San Paolo. Questo è stato possibile anche perché in Germania i club di calcio sono delle associazioni registrate, mentre invece in Italia per partecipare a qualsiasi campionato professionistico i club devono costituirsi in aziende, in SPA. Va da sé che la struttura societaria tedesca sul modello sostanzialmente associativo permette al tifoso socio di ricoprire un ruolo di primo piano all'interno del club e quindi hanno dato vita ai tifosi nel corso degli anni che ne ha decine di progetti sociali i più disparati possibile, attività a sostegno dei disoccupati del quartiere, dei bambini, dei rifugiati politici, degli immigrati. Quello più recente e più famoso, Viva con Acqua, si è impegnato a costruire pozzi d'acqua nei paesi in via di sviluppo. Ovviamente la tifoseria ha un po' ripercorso i cambiamenti anche sociali e politici che ci sono stati all'interno del quartiere. San Paoli a partire dalla fine degli anni 90 ha iniziato un processo sostanzialmente di gentrificazione e quindi questo ricambio all'interno del quartiere si è poi sentito anche all'interno dello stadio. Anche dal punto di vista della società, quindi dal punto di vista dei vertici della società, ci sono state diverse misure, diverse scelte che hanno sostanzialmente fatto scivolare tutto il club verso i processi di commercializzazione. Sicuramente la cosa che ha cambiato parecchio la realtà del San Paoli è stata la ristrutturazione dello stadio. Ha cambiato completamente l'atmosfera all'interno dello stadio e due anni fa un episodio in particolare ha dato il via ad una grande protesta dovuta alla vendita da parte del club di uno dei box commerciali ad un locale di spogliarelli di San Paoli, ovvero la protesta social romantica. Questo locale ha piazzato all'interno di questo box un palo della lap dance con delle spogliarelliste che si esibivano durante la partita. E' questo l'episodio che ha scatenato l'ira dei tifosi, i quali hanno dato il via alla protesta social romantica che aveva come caratteristica quella di una bandiera dei pirati rossa, rossa con lo sfondo nero. E quindi il tema del sessismo e dell'omofobia all'interno della tifoseria del San Paoli è oggi un argomento molto sentito e molto importante. Non a caso all'interno dello stadio del San Paoli c'è la più alta presenza di pubblico femminile di tutta la Germania, circa il 30%. All'indomani di questa protesta che minacciava sostanzialmente una sorta di boicottaggio dei consumi all'interno dello stadio, la presidenza ha fatto dei passi indietro, in primis negando la concessione, evocando la concessione a questo locale di spogliarello e poi venendo incontro a tutta una serie di richieste che hanno fatto i tifosi. San Paoli, San Paoli, San Paoli! San Paoli, San Paoli, San Paoli! La speranza è che il nuovo presidente eletto qualche mese fa, che proviene da questa protesta social romantica, quindi dalla base dei tifosi, possa un po' riportare l'aspetto politico su posizioni più alte. La sfida sarà proprio questa, sarà quella di far competere il San Paoli con la sua tradizione politica a livello di altri club che invece in Germania, così un po' come in tutta Europa purtroppo, questa è la situazione del calcio moderno, puntano più invece tutto sull'aspetto commerciale e su tutta una serie di misure che hanno reso il calcio, un vero proprio show televisivo. Grazie. Grazie.